Salve, ma c'è qualcosa davanti all'obiettivo, tipo un laccio, tipo. Se stasera avete il piacere di vedermi così imbacuccata è perché sto registrando questo video a mezzanotte passata e quindi può essere che anche i toni siano leggermente, leggermente più bassi. Oggi, con il potere conferitomi da me medesima, ho deciso di introdurre un argomento. Ta-na-na-na, disegno digitale, ta-na-na-na, pom-pom-pom-pom. Sfortunatamente questo video sarà diviso in più parti perché purtroppo non è possibile parlare del disegno digitale tutto quanto in un unico video. E sappiate che ho fatto l'oculatissima scelta di cominciare dall'inizio. Lo so, può sembrare una cosa azzardata cominciare dall'inizio, molti non sono pronti a fare subito questo passo. Ta-na-na-na, pennelli e trick. La mia dignità. Molti sono convinti che siccome su Photoshop ci sono 150 milioni di pennelli preimpostati, per fare un disegno digitale veramente bello, cavolo, utilizziamoli tutti, perché no? Mi sembra proprio una fantastica idea. Ma soprattutto, la cosa ancora più bella è che c'è un pennello fatto forma di filo d'erba e scommetto che tutti, almeno una volta, avete provato ad usarlo per fare il prato. Per fare un disegno digitale, diciamo che al massimo di pennelli ne possono servire tre o quattro, ma proprio l'essenziale. Quindi io vi ho allegato a questo video una palette, che è quella che utilizzo io, con soltanto quelli potete fare qualsiasi cosa. E poi, se volete fare i fighi, potete sempre crearvi dei nuovi pennelli da aggiungere alla vostra palette e dire, cavolo, questa palette l'ho proprio fatta da solo, sono tutti i miei pennelli, guarda, c'è questo per fare le caccole. Quindi, da adesso in poi parliamo dei pennelli. Come utilizzare quelli che vi ho dato all'interno della palette nella descrizione e come creare dei nuovi pennelli del tutto fighi e personalizzati al massimo. E da adesso in poi, tutti i passaggi saranno illustrati da una voce fuoricampo dieci volte più figa, che sì, sarà sempre la mia, ma dieci volte più figa. Salve a tutti, qui è La Voce Figa. Tanto per cominciare, la prima cosa da fare è sostituire i pennelli che avete su Photoshop con quelli che avete scaricato. Andate su Sostituisci i pennelli, selezionate quelli che avete appunto scaricato e come vedete, nella palette ce ne stanno solo tre. Il primo è perfetto per fare degli schizzi o delle bozze, perché appunto ha una forma rigida piccolina e quindi potete buttare giù qualche disegnino e dire ok, comincio da qui e poi procedo con il vero disegno. Il secondo invece è, a mio parere, il più figo, perché ha un tratto sempre uguale, ma al variare della pressione cambia l'opacità ed è perfetto per creare delle sfumature. Pure il terzo è veramente utile, sarebbe l'aerografo. A differenza del secondo e del primo ha un tratto morbido. Al variare della pressione cambia sia l'opacità che lo spessore. Anche questo è comodissimo per creare sfumature. Detto questo, parliamo dei nuovi pennelli. Ognuno può creare, partendo da questi tre, dei pennelli nuovi che possono essere utili per creare erba, nuvole, cose del genere. L'unico consiglio che vi do è di non abusare di questa possibilità, perché veramente viene fuori un disegno tamarro e schifoso. Però vediamo subito come si fa. Anzitutto prendiamo il pennello di mezzo. In questo caso io creerò un pennello stile nuvola o smog. Fate uno schizzo di quello che sarà la forma del vostro pennello. Dopodiché andate su modifica, definisci pennello predefinito e dategli un nome se volete, e poi datelo ok. Come vedete il vostro pennello assumerà la forma del primo schizzo che avete fatto. Tuttavia, comunque adesso c'è da modificare il tratto. E aprendo il pannello dei pennelli, vedrete che ci sono tutta una serie di settaggi che potete modificare, e sotto vi darà l'anteprima di come sarà il tratto del vostro pennello man mano che modificate le varie opzioni. Io qui non vi sto a spiegare ogni opzione cosa fa, perché la cosa migliore da fare, piuttosto che parlarne, è provare voi stessi a impostare tutte quante le varie opzioni e vedere il risultato. Ricordate soltanto che una volta ottenuto il risultato che volete, dovete memorizzare il nuovo pennello, ancora una volta, per fare in modo che sia memorizzato pure il tratto, non solo la forma. Cliccando su questa icona, vedete, potete dare un nome al pennello e salvarlo a sua volta. Una volta che avete creato tutta la vostra palette, ricordate di andare su salva pennelli, altrimenti quando chiuderete Photoshop non sarà memorizzata, e tutti i pennelli spariranno. Dategli un nome e memorizzatela. Quindi, detto tutto questo, mi sembra che possiamo benissimo archiviare l'argomento pennelli. O comunque, se non archiviare, comunque... Eh! Avere tantissimi strumenti qui sulla barra laterale non vuol dire, per forza, doverli usare tutti. Difatti, per il disegno digitale, più o meno, si utilizzano sia pennello, gomma e contagocce, che è quello che serve per cliccare qui e ti prende il colore di questo punto. Perché? Perché essenzialmente è proprio quello che devi fare, scegliere un colore, spalmarlo, oppure eliminarlo. Saper creare delle buone sfumature è il primo passo assoluto per poter cominciare il disegno digitale. Difatti, adesso, come per la prima volta, al mio posto subentrerà di nuovo la voce figa che vi spiegherà come creare delle sfumature. Eccoci qui, qui è di nuovo la voce figa che vi parla. Per avere più confidenza con il vostro disegno, con la vostra interfaccia, è importante anche utilizzare le shortcut da tastiera, che vi permettono di passare da uno strumento all'altro con più rapidità. Se non sapete quali tasti premere per ogni strumento, per ogni effetto che volete creare, andate su Modifica, Scelte rapide da tastiera. Si aprirà appunto questa finestra e qui di seguito, scrollando con la barra, potete vedere tutti gli strumenti e tutti i tasti da premere per attivare i seguenti strumenti. In questo caso io vi do il consiglio di vedere assolutamente questi. Riduci dimensione pennello e aumenta dimensione pennello, perché vi permettono di aumentare o diminuire la sua dimensione senza dover tutte le volte aprire il pannello. Parliamo adesso delle sfumature. Sono molto importanti perché non sempre è bene andare a scegliere un colore intermedio a caso. È sempre meglio scegliere i due colori estremi e creare quello che sta nel mezzo, ma ottenerlo mischiando i due colori, non scegliendolo dalla palette a caso. Quindi, partendo da due colori base, come potrebbero essere, che ne so, questo blu strano e questo magenta, anche questo a sua volta molto molto strano, nel mezzo cerchiamo di creare la tonalità intermedia o le varie tonalità intermedie, nel caso avessimo bisogno di più tonalità. Vedete che grazie allo strumento contagocce possiamo prendere una volta un colore e una volta l'altro e man mano che ci si avvicina agli estremi della nostra sfumatura andare sempre più verso il colore che sta appunto all'estremo, ovvero a sinistra andare sempre più verso il blu, a destra andare sempre più verso il rosso. E cercando appunto queste tonalità intermedie è possibile creare sfumature sempre più omogenee e più verosimili. Qui ecco, vedete altri esempi di sfumature, le ho un po' velocizzate per non stare qui venti minuti a parlarne, però capirete che se con lo strumento contagocce prendete ogni volta una tonalità che sta nel mezzo vedrete chiaramente qual è il passaggio da un punto all'altro della nostra sfumatura. Facendo questo semplice passaggio avrete una palette che sta al di fuori del vostro disegno ma dalla quale potrete sempre attingere i colori che sarete sicuri saranno quelli giusti. Bene, miei prodi, per questa prima parte della guida gli argomenti sono conclusi. Per rendere questa guida sempre più figa e sempre più all'avanguardia con i tempi ho creato appositamente un'immagine che io andrò man mano che la guida prosegue a colorare e a realizzare con le tecniche che spiegherò. E per permettere anche a voi di buttarvi sul disegno come se non ci fosse un domani vi ho messo il download del disegno qui nella descrizione. Così potete cominciare pure voi a scatenare il vostro estro artistico e spastrocchiare con quei bei colori che sembra quasi di colorare il librino delle principesse Disney. E se volete mostrare a tutti il risultato che avete ottenuto potete tranquillamente venire sulla mia pagina Facebook Frafrog e postare lì il disegno così possiamo commentarlo tutti assieme. Detto questo non vi resta che iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi tutorial e guide che usciranno. Ta-na-na-na Disegno digitale Ta-na-na-na Pom-pom-pom-pom